Il cambiamento climatico è una delle sfide più importanti che molte nazioni si trovano a dover affrontare nel medio e lungo termine. L'impatto globale del cambiamento climatico sull'agricoltura potrebbe essere negativo in quanto potrebbero verificarsi carenza idrica e siccità, nuove malattie, stress da calore per gli animali e rischi legati agli eventi meteorologici estremi. Il cambiamento climatico è principalmente dovuto all'aumento della concentrazione di gas come CO2, metano ed ossido nitroso. Se da un lato l'agricoltura è la principale fonte di metano e protossido d'azoto ed emette fino al 20% di tutte le emissioni globali di gas a effetto serra, dall'altro l'agricoltura è un settore ad alto potenziale di mitigazione che, a differenza delle attività industriali, ha anche la capacità di assorbire CO2 nell'atmosfera. L'attività agricola non è molto dissimile da una foresta. Gli alberi, le coltivazioni e la vegetazione in generale rimuovono CO2 dall'atmosfera attraverso il processo fotosintetico, diventando dei depositi, di conseguenza aumentando la cattura del carbonio. La Commissione europea ha attivato il progetto LIFE PLUS, Agri Climate Change, per coinvolgere le imprese agricole europee nella lotta contro il cambiamento climatico. Un obiettivo importante del progetto è anche la validazione di una metodologia di calcolo dell'energia consumata e delle emissioni di gas a effetto serra generate nel settore agricolo. Successivamente è stato sviluppato uno strumento di valutazione chiamato Agri Climate Change Tool, ACCT. Questo strumento è stato testato per analizzare un campione di 120 aziende agricole di Germania, Spagna, Francia e Italia, che rappresentano le economie agrarie più importanti dell'Unione europea. Successivamente, per ciascuna azienda pilota, è stato elaborato un piano di azione, con la valutazione in termini economici degli interventi necessari per la riduzione dei gas serra. Le azioni più importanti ed utili che aiutano gli agricoltori ad essere più efficienti riducendo l'energia consumata e le emissioni di gas serra sono l'uso appropriato del suolo, evitando il fenomeno dell'erosione, limitando la pratica dell'aratura e aumentando l'accumulo di humus. Una migliore gestione degli allevamenti animali attraverso la loro conduzione e alimentazione più efficiente e un adeguato stoccaggio degli effluenti. L'uso efficiente dei fertilizzanti e dei pesticidi. L'uso più efficiente di macchinari, di nuove tecnologie, della gestione degli immobili finalizzati a risparmio energetico ed ha un uso più proficuo delle energie rinnovabili. I primi risultati del progetto Agri Climate Change hanno mostrato che attraverso queste pratiche è possibile ridurre dal 10 al 40% i consumi energetici per ogni azienda. Riducendo le emissioni di gas serra diminuiscono non solo i consumi di energia, ma si ottengono anche altri importanti benefici ambientali ed economici. Una migliore conoscenza dell'azienda agricola, la riduzione dei costi, evitando l'inquinamento dell'aria e dell'acqua, riducendo l'erosione del suolo e molto altro ancora. Realizzare questo tipo di interventi significa che l'agricoltura continuerà ad essere redditizia e gli agricoltori saranno più informati sulla propria attività e più preparati ad accogliere le future politiche agricole comunitarie, che saranno sempre più caratterizzate da esigenze ambientali, come la riduzione delle emissioni di gas serra. L'agricoltore che valuta con più precisione conosce il suo lavoro, acquisisce consapevolezza dei punti di forza, le debolezze, le minacce e le opportunità della propria attività. La consapevolezza è essenziale per l'attività di agricoltori, per affrontare le nuove sfide e per diventare più sostenibili nel futuro. Tutti questi cambiamenti sono sulle mani degli agricoltori, ma anche i consumatori e le autorità pubbliche, sia a livello europeo che nazionale e regionale, hanno un ruolo fondamentale per un'agricoltura più rispettosa dell'ambiente. La Fondazione Lago di Costanza è un'organizzazione senza scopo di lucro e si adopera per realizzare idee e progetti per uno sviluppo sostenibile, in particolare nel settore agricolo. Accanto a progetti di marketing di prodotti alimentari, biologici e locali, la Fondazione Lago di Costanza sviluppa idee innovative per rendere l'agricoltura più sostenibile e preparata per affrontare le sfide future. Piccole strutture e grande diversità caratterizzano l'agricoltura nel sud del Baden-Württemberg. Accanto alla tradizionale coltivazione a pascolo nelle regioni collinari, nelle zone più a valle giocano un ruolo importante le coltivazioni asseminativo e gli allevamenti di bestiame. Intorno al Lago di Costanza, il paesaggio è dominato da culture specializzate come frutta, verdura, vite e luppolo. Negli ultimi dieci anni, nella regione sono nati molti impianti agricoli di biogas. La coltivazione intensiva di culture energetiche, dovute alla forte domanda di biomassa, come il mais o la segale, ha un impatto significativo sul paesaggio. Io sono Hans-Peter e ho un'agricoltura dei miei grandi 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 e ho un'agricoltura. Io sono Philippe, studiare l'agricoltura dell'agricoltura a la Università Hohenheim. e il mio Ziel è l'agricoltura di Hofnachfolge. Io sono Doris e sono ora 26 anni, ho un'agricoltura di Bologna. E insieme sono siamo le Bulls. Unsere Betriebsschwerpunkte sono la Milchviehhaltung mit Nachzucht, una Biogasanlage con 130 kW, un'agricoltura di un'agricoltura, un'agricoltura di un'agricoltura, un'agricoltura di un'agricoltura, un'agricoltura di un'agricoltura e un'agricoltura. La situazioni migliere alla cultura Mitb красивo e un'agricoltura di Milch. Siamo un'agricoltura di Milch. Per esempio, del McLaren è un'agricoltura. maicol Brei, un'agricoltura di Muscat, questo invece è un'agricoltura di Milchvieh e la superficie del grasso, Il è la l'occurità è un un santo il l'occurità l'occurità è meno un 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 E' meglio per l'Erosione per l'Erosione. Abbiamo qui un'automale con 51 Milchkühe, più di Natale. Ci sono i nostri spiegelati con il nostro Stallo. Ci sono le nostre EU-Verordnone per il terreno per il terreno per il terreno. ma Nel primo giorno, i sui duefondri, i giusti di nuovo. Qui abbiamo in questo giorno, abbiamo in questo giorno, e otto i due giorni, tutti i due giorni, la Cisilage, la Cisilage e il maissilage, che siamo stati i nostri consigli, che in il Farsilo è solito. Sì, siamo in una biogasanlazione di Hofgolt-Homboll. Abbiamo una lezione di 130 kW di energetica e di 130 kW di energetica. La energia è uscita per un luogo e per un luogo di luogo e per un luogo di luogo e per un luogo di luogo di luogo. La tecnologia è stata per la prima milchwirtschafts-krise 2003. Abbiamo deciso di un'altro Stammbi di fare. La biogasanlagem è in alla Munde. Abbiamo una delle pioniere in nostra regione, in cui abbiamo fatto la prima biogasanlagem. La energia energia è vera ins E-Werk e la tutta l'allazione è stata messa dal Getreide, dal Ackerbau. Getreide, cioè Mais, Gras, Grünroggen. Nel momento siamo arrivati, che 60% del nostro Einkommen, della Biogasanlage, e solo 40% del Milfee. Il prodotto di una Biogasanlage, cioè questa Strate, che è la vergogna Gülle della Küche. E questo materiale del Subsidrato, cioè Mais, Grünroggen o Gras, che ci riempiamo energia. Questo materiale viene dal Dungo. Un' bewussterere del umgango con la nostra felta, anche anche nel uso della Gülle come Dungo. come possiamo usare effizienti più effettivamente, per esempio per usare un Schleppschlauch e usare, per farlo con la natura in Einklang. Ci spavano meno 15 t di calcamonesalbiet o di sintetiche Düngemittel. per il nostro lavoro. Per noi, abbiamo visto il nostro programma, dove sono i nostri costi, dove sono i nostri costi, dove sono i nostri costi, cosa possiamo fare. Abbiamo in questo modo una risparazione, soprattutto in la finanziazione. Per una risparazione, abbiamo potuto una risparazione per il stromale. Abbiamo imparato in effettere modelle che oggi ha molto meno stromale. Abbiamo le Schieberanlagen, che le mischieremo, in altre zone imposte, in modo che non fanno più molto più in quanto riguarda la salute. Al prossimo, abbiamo avuto due Maschinen per l'ultimo, 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 anche meno di Öl. Per la erntezza della silage, la erntezza è sempre più di più. Abbiamo lavorato con gli altri, così possiamo lavorare a un giorno, o al prossimo giorno, o anche anche al prossimo giorno. Landwirte, come per esempio, è un altro termine, è un'ottico, è un'ottico, è un'ottico, è un'ottico, è essenzialo, abbiamo bisogno di questo, per fare il lavoro. Abbiamo nessun interesse per il nostro bambino a costruzione, a costruire o a costruire. Abbiamo la nostra ricerca e il nostro progetto di una generazione a la prossima. Solagro è una Ollus francese con sede a Tolosa, nella regione Midi-Pirenei. Solagro ha lavorato per più di 20 anni alle questioni relative all'agricoltura e al cambiamento climatico, in particolare attraverso la creazione e lo sviluppo di Planet, un software progettato per valutare il consumo di energia e le emissioni di gas serra nelle aziende agricole. Nel quadro del progetto Agri-Climate Change, Solagro lavora con 24 aziende francesi, di cui 18 si trovano nella regione dei Midi-Pirenei. L'agroindustria, compresa l'agricoltura, è il settore di occupazione principale nei Midi-Pirenei, con settori agricoli molto diversi. Coltivazioni di cereali in pianura, allevamenti in pianure e montagne, produzione di vino e di frutta. Midi-Pirenei è una regione soggetta a siccità, che è una delle principali preoccupazioni quando si parla di cambiamenti climatici in agricoltura. Diciamo che abbiamo accompagnato il progetto di nostro figlio, che ha avvisato l'installazione di pannello, e che, di filo in aiguo, è arrivato alla costruzione di una vergeria, che ha rivoluzionato il nostro lavoro, il nostro lavoro, il nostro lavoro professionale. C'erano dei vievi battimenti, c'erano del fuente in forma di balle ronde, eccetera, eccetera, con una valore moindra e un lavoro più pieno. C'erano di un lavoro più piccola in generale. Il sistema in generale, c'erano di 30 anni. Il mio padre non lo aveva pensato, ma pensare che è stato molto onorevole, è stato un sogno. E, a volte, le sogno si realizzano. La motivazione al principio era di potercire il fourraggio per avere un fourragio di migliore qualità un fourragio molto più appettante ci permette di dare molto più di fourragio brebis e di fare più di litraggio Il lien con il photovoltaico è di profitero di l'aubaino che era lì a 2-3 anni per il photovoltaico tutte le aides che avevano sul prezzo per cercare un bambino di questa qualità perché l'exploitazione come la nostra è incapabile di finanzare questo tipo di bambino e proprio con l'aide di photovoltaico per il paio di l'AEDF e anche per le aides locali della regione e del FEDER ci hanno permesso di realizzare questo bambino di menere a bout e arrivare ad obiettivi che ci sono più sèche le anni sono più sèche ma sono più sèche è chiaro questo è il risultato del riferimento non so non non posso dire ma cosa sia ma cosa è sicuro è che l'abbiamo 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 con 40 hectare per 300 brebis quel giorno è l'abbiamo 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 la prima quando ci siamo partiti in una periodo più vievole è più marco c'è due o tre mesi e quando siamo partiti verso il soleil e il semblerà che non ci sia di demi-mesure C'è la continuità della decisione presa per i miei parenti in generale 1965. E poi preferirei guardare le brebis che partire con un atomiseur e un prodotto. Non c'è qualcuno che da dentro. Si metto la pelle. Il caminamento del mondo della ricolti è abbastanza semplice. La ricolti è finita quando non c'è più di umidità. 24 ore dopo, in denze. E in la fulia, la ricolti è rammassata dalla rammolcola. E l'emmena qui è stocata con l'aide della griffa per essere scechata. Quando questo ventilatore è iniziale, il ha la capacità di aspirare l'air con questa piccola che vediamo a noi, con l'air stockato che si trova tra le pannello e l'isola con la verga, l'air chaud è aspirato e sifflo nella gaine in modo che si chiama il fourraggio In questo caso, la facilità non è possibile comparare a quello che facciamo prima perché abbiamo tutto a costo, l'hiver non mettiamo il ne fuori, non abbiamo osato di uscire e prendere i grandi portali e prendere la pluia, il vento nel visaggio, è meglio. Outre la qualità del foin, il lavoro è semplificato. Pas enormemente, un po' più verta, più di tutto, più di vitamini, più di F, più di tutto, di PDN, di PDE. A través delle analisi, abbiamo visto l'anno passato che abbiamo delle luserne che arrivano a 135 PDN e ciò si è traduiti per una produzione laitiere molto più importante. Ce n'était non fictif. Fondazione Global Nature è una organizzazione non profit fondata nel 1993, il cui obiettivo è la protezione della natura. La Fondazione realizza diversi progetti in collaborazione con enti pubblici e privati. Le attività comprendono il ripristino degli habitat, la promozione di pratiche agricole tradizionali, progetti di innovazione o programmi di cooperazione internazionale. Come ente di beneficenza educativa, include aspetti di sensibilizzazione ed educazione ambientale nella maggior parte dei progetti. Le aree di lavoro incluse nel progetto Agri Climate Change rappresentano le regioni spagnole ad agricoltura intensiva e di esportazione. In parallelo, la Fondazione sviluppa anche progetti per promuovere la sostenibilità agricola e produzione di marketing differenziati che aiutano la conservazione della biodiversità in ambiente agricolo. Colture di leguminose, le pratiche agroambientali, il recupero di razze di bestiame autoctone. Murcia è una regione con un'efficace agricoltura di precisione per la produzione di frutta e verdura, che rappresentano il 20% delle esportazioni spagnole. La regione di Murcia è coinvolta nel progetto Life Plus, con il servizio tecnico di sviluppo del team per l'ambiente di cambiamento climatico. Tra le varie iniziative sviluppate per promuovere la responsabilità sociale in materia di cambiamento climatico si evidenzia l'SCO2, che mira a promuovere la riduzione volontaria delle emissioni e un maggiore assorbimento di anidrite carbonica, e quindi un maggior contributo alla lotta globale contro i cambiamenti climatici. La regione di Murcia contribuisce al progetto Life Plus, in particolare con l'attuazione dello strumento ACCT attraverso l'esperienza acquisita con l'SCO2, iniziativa basata sulla ISO 14064 e il lavoro scientifico sulla rimozione potenziale di CO2 dal settore agricolo. La famiglia si dedica al plattano, e soprattutto a la Punta Lidalgo. La famiglia si è stata un po' attrazzata, nel senso di che non avevamo riegos in tutta la fertilizzazione, sistemi automatizzati. Dopo le famiglie sono un totale di 25 hectare, e dedicati al plattano, sono 20 hectare. Il cultivo del plattano, in certi anni, sono alcuni lavori le cacere, in altre anni, altre lavori. Il ciclo paternale sono 9 mesi. e delle lavori più importanti le ho escizzato, già che vas a ottenere il frutto di una selezione che fa il agricoltore di suo cultivo. dopo il resto delle lavori, sono dei sottotitoli, dei sottotitoli, dei sottotitoli, una volta che pare la plattano, e il corto di la frutta, per portare il plattano. Perché una delle cose che abbiamo, noi, è cumplire dei controlli di qualità, per che la frutta che al consumatore in un stato idoneo. Io sono licenciato in Ciencias Ambientales, e come tal, mi piace che, per la mia explotazione, il medio ambiente sia importante e che le cose cose come devono. Seria importante, per il futuro della agricoltura in Canaria, che intendo da le trasplosioni da un punto di vista medioambientale più estricto, intendo da ridurare le emisioni di CO2, intendo da apostare per le energie renovabili, per abonare per aboni orgogli… perché io credo che per il futuro, se vogliamo avere un prodotto diferente, con mayor qualità, può essere la soluzione. Il progetto AgriClimate Change ci ha apportato informazioni che prima non avevamo, che non avevamo, non avevamo, non avevamo, non avevamo, che questa informazione ci aiuta a optimizzare i risultati, e al essere più limpi dal punto di vista ambientale e optimizzare i risultati, anche optimizziamo la applicazione di maniera economica. La iniciativa sta molto bene, il medio ambiente deve fomentarlo, deve obligare, in qualche modo, a fare le cose come è dovuto, però, lo che vedo più difficile è il controllo, che ci sono un'idea di strumenti per controllare queste accioni e facerlo in modo corretto. Inizialmente, 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 da una forma molto artesanale, e inizialmente, inizialmente, a partir del anno 1992, inizialmente, 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 di un'immagine di un'immagine di più intensa, inizialmente, 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 che ci sono stati inizialmente, inizialmente, come una frutta più perfetta, che non ha dei rossi, e questo si escovano dentro di un'immagine di inizialmente. Noi procuriamo avere un tema di produzione di acqua e di energia e essere autosuficientes. Inizialmente, abbiamo già mettere un aerogeneratore che ci sia inizialmente che ci sia inizialmente che inizialmente le condizioni le maquinà empaquetato e soprattutto la desaladora che ha un coste energetico molto alto, molto elevato. Per noi è più sicuro e più ecológico produire, e è di migliore qualità, produire acqua di mar e desalarla. Aparece anualmente alcun virus nuovo che causa molti problemi. Penso che questa apparizione del virus è debido al tema del cambio climatico e anche la comunicazione globale alrededor del mondo, che si vanno trattando enfermedi, plagas e virus che ci sono in altri paesi che stavano aislati, che ora non lo stanno. De resto, del tema del fitosanitario, procuriamo il uso minimo di insecticida quando non queda più remedio, ma per il tema di produzione integrale, cioè, prima la luce biologica e meccanica e, per ultimo, la quimica. Con respecto a i mercati, si stanno trattando i prodotti dei terci paesi che non stanno siano controllati devidamente, come stanno controllando i prodotti dentro di Europa. Il cultivo ecològico, lógicamente, da un prodotto di più sicurezza per il consumatore. Abbiamo una serie di requerimenti per essere dentro di un paese natural, che non lo hanno altre explotazioni. De cara al marketing e al cliente inglese e al cliente escandinavo, è attrativo stare dentro di un parco rurale, perché conlleva una serie di restriczioni che favoreziano la qualità della frutta. La comunità montana, ente territoriale locale con competenze in materia di conservazione e sviluppo, abbraccia un'area rurale assai estesa di 13 comuni, per un totale di oltre 100.000 abitanti. L'ente pubblico è responsabile della promozione e dello sviluppo locale sostenibile, così come della gestione del Parco regionale del Lago Trasimeno. In questo territorio, l'agricoltura è caratterizzata dai cosiddetti prodotti tipici, ovvero di qualità, che rappresentano la tradizione e la vocazione agricola di questo territorio. Tra le principali coltivazioni presenti si distinguono la produzione di olio extravergine di oliva molto pregiato ed apprezzato anche all'estero, la specializzazione nella produzione di numerosi dini di qualità, allevamenti di razze pregiate, di carne bovina e suina. Un altro aspetto che caratterizza fortemente l'economia di questa regione è la presenza di numerose attività ricettive nate all'interno delle aziende agricole, chiamate agriturismo. Il tutto è iniziato nel 1976, quando mio padre acquistò una casa dove crescere i suoi figli in un posto sano e sicuro, lontano dai grandi problemi della città. Oggi il fontanaro ha una grande eccellenza, quella della produzione di un olio d'oliva che è stato scelto e selezionato dal Culinino dell'Istituto of America o anche da Slow Food e da molte altre organizzazioni. Questo perché c'è una differenza nella produzione dell'olio. Solo utilizzando il progetto biologico, quindi di difesa dell'ambiente e solo molendo le olive lo stesso giorno, addirittura a volte mezz'ora dalla raccolta, riusciamo ad avere un prodotto di eccellenza. L'olio quindi per noi è la punta di diamante, la produzione più importante. Il nostro è un orto biologico, i nostri ospiti imparano a coltivare, a raccogliere, a mangiare biologico e quando vanno via capiscono la differenza di un pomodoro cresciuto in modo vero da un pomodoro acquistato in un alimentare, magari forse viene dalla Cina. Gli facciamo partecipare alla raccolta delle olive, alla potatura delle olive. Ora abbiamo piantato lo zafferano e tra poco avranno il privilegio i nostri ospiti di raccogliere uno zafferano vero che ho piantato io due settimane fa con le mie mani. Pomodori, ortaggi, ogni casa ha il suo orto personale e ogni persona quando viene qui può prendersi cura dell'orto e solo così si possono capire quali sono le differenze del sentirsi bene perché siamo quello che noi mangiamo alla fine e se mangiamo prodotti OGM alla fine purtroppo il nostro corpo ne risente, i dati scientifici purtroppo lo stanno confermando. È importante avere una pratica quotidiana dell'ambiente. Credo veramente che un logo di certificazione sull'impatto ambientale sia fondamentale per cambiare l'uso e il consumo della gente. Al Fontanaro stiamo cercando e abbiamo cercato di ovviare alla riduzione dell'utilizzo del carbone attraverso le energie rinnovabili. Il frantoio per le nostre olive è alimentato dai pannelli solari. In questo modo noi siamo sufficienti dal punto di vista energetico e non solo. All'interno del mulino per esempio le sanse residue tornano direttamente al terreno come primo fertilizzante. Stiamo cercando di integrare tutta la nostra tenuta con dei riscaldamenti dati dalla legna perché quello che poi sono i ricavi, questi costi di riscaldamento invernali non è un'attività sostenibile, non è un'attività che si può fare. Questa è stata un'estate drammatica, tre mesi di siccità. Solo attraverso grazie al fatto che mio padre preparò un impianto di riciclo dell'acqua piovana ci siamo salvati. Avere un'azienda agricola in Italia che produce olio d'oliva purtroppo a volte è difficile, è difficile vendere il nostro olio, è difficile farlo capire, è difficile far comprendere il prezzo del nostro olio all'utente finale. Noi del Fontanaro siamo molto vicini e grati e crediamo molto in quello che è il progetto di Agri Climate Change e sostenere queste iniziative e esserne vicino, promuoverle è un grande passo di civiltà e di riconoscimento della politica del dovere sostenere l'ambiente perché solo in questo modo sosteniamo la nostra terra, il posto dove viviamo noi e vivranno le nostre future generazioni.